Io sono un po' diversa dalle altre persone. Mi limito a vivere la mia vita imitando gli altri che non se ne accorgono. Odio tutte le persone che si comportano come se fossero raffinate quando in realtà non valgono nulla. Ehi, a proposito, tu mi incuriosisci molto. Allora, vogliamo vederci? È fantastico! Ehi, fermo! Non riesco a respirare! Non c'erano impronte sul cadavere. Non è il solito psicopatico. Devo trovarla e basta. Non sei mai stata incuriosita da nessuno. È vero, ma stavolta è diverso. Vorrei vederti. La polizia ti sta cercando. Voglio saperne di più di te. Io l'ho trovato. Sai qual è il mio hobby? Sì. Voglio andare in giro a uccidere tutti. Finalmente ho trovato qualcuno che è proprio come me. Non vorrei perderlo per nessun motivo al mondo.